Ciao a tutti, sono Francesca Lotta e sono in giro con la mia nuova e-bike. Questo è uno dei piccoli cambiamenti della mia vita, perché voglio fare qualcosa, perché voglio un pianeta così, voglio un pianeta pulito, un pianeta verde, un pianeta che potremmo consegnare un giorno ai nostri figli, nipoti, che sia veramente migliore di quello che adesso è violentato da tutti noi. Quindi non abbandoniamo la roba, ecco vado racquattando, mi raccomando con i guanti, perché sennò ci facciamo del male, puliamolo, non guardiamo, andiamo oltre e facciamo finta che non ci sia. Rendiamo questo mondo migliore e non buttiamo le cicche, le sigarette, perché sono veramente altamente inquinanti. Mi raccomando, voglio un pianeta così, voglio un pianeta verde per tutti. Ciao da Francesca Lotta, un bacio.